Noi dobbiamo fare in fretta quindi facciamo metà per uno. No, io sono veramente felice perché il Presidente Conte ha dato valore a questa giornata. L'interesse è la biobanca, l'interesse è la ricerca, però il mondo SLA ha bisogno anche di comunicazione. Spesso ci sentiamo un po' abbandonati, ci sentiamo un po' isolati e quindi, grazie Presidente, perché davvero è straordinariamente importante vedere così tanto interesse per questa iniziativa. Abbiamo già parlato molto della biobanca prima, adesso c'è Alberto che molto meglio di me racconterà quello che ha da dire. Semplicemente mi associo a un ringraziamento al Presidente Conte perché un aspetto della cura è sicuramente la vicinanza e l'ascolto da parte delle nostre istituzioni. Tutte le persone che oggi si prendono cura dei malati di SLA hanno la conferma che non sono soli. Oggi aggiungiamo un mattone a quella che non è una parola senza significato, ma che è una vera certezza, che è la speranza di riuscire a sconfiggere al più presto una malattia appunto come la SLA. Il fatto che le istituzioni siano qui presenti al Policlinico Gemelli, dove abbiamo fatto nascere un luogo dove le persone che vivono direttamente il problema sono anche protagonisti in quelle che sono le scelte, ma soprattutto quel desiderio di non abbandonarsi alla malattia, ma anzi di alzare il capo rispetto al desiderio di vita che provano. Credo che oggi noi non solo celebriamo a livello nazionale, ma celebriamo a livello mondiale il desiderio di esistere e il desiderio di affrontare la malattia insieme alle nostre istituzioni e insieme ai nostri ricercatori, ai nostri medici, al nostro personale che tutti i giorni ci dona attenzione. Credo che questo è stato il modo migliore per celebrare questa giornata importante per tutti noi. Grazie.